Centinaia di persone sabato e domenica hanno partecipato alle aperture straordinarie delle giornate del FAI di primavera con il Fondo Ambiente Italiano che fra il 23 e 24 marzo ha svelato 18 gioielli nascosti nei territori della provincia di Pesaro Urbino. Luoghi normalmente chiusi al pubblico che tornano ad aprirsi eccezionalmente e in alcuni casi si svelano per la prima volta. E il caso di Fano e della sua area archeologica sotterranea compresa all'angolo fra via Roma e via dell'Abbazia. Una scoperta che avvenne casualmente vent'anni orsono durante gli scavi di un cantiere edile. Dal 2004 ad oggi l'area è stata oggetto di un lungo perdurare di lavori in corso e sopralluoghi di tecnici e studiosi fino all'accordo fra FAI e soprintendenza per questa apertura eccezionale che ha mostrato ai visitatori i resti di una villa di età romana, un grande sepolcreto adiacente alla stessa villa e reperti medievali dell'Abbazia di San Paterniano. Una visita che, prima di addentrarsi nei sotterranei, ha mostrato anche l'oratorio di San Martino di forma esagonale che ricorda come in quel luogo per oltre mille anni venne custodito il corpo di San Paterniano, patrono della città. Ad accompagnare i visitatori, oltre ai ciceroni del FAI, anche l'archeologa Vanessa Lani, direttrice della rete museale Flaminia, che ha seguito gli scavi dell'area fin dal principio.